Si lavori si fatica per il pane e per la figa Che ha meritato il voto 41 Se la vita ti affanna beviti una birra e fatti una casa Ah, il finale, il finale parlato con un pochino di voce Però era una bella frase, anche questa molto lunga Diciamo che il significato può essere più o meno apprezzabile Ma 8-16 più 14-30 E' alta, è alta 39, molto bene, 39 punti Bravo Bravo